Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 15 marzo 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo bilancia. Finalmente arrivano i quattrini. Passione per il lavoro, come sempre, più di sempre, fomentata dalla coppia sole-nettuno in sesta casa, la vostra creatività cerca spazio per espandersi e per esprimersi, anche le attività solidali rivolte a persone e animali in difficoltà, destano il vostro interesse, già alla ricerca di organizzazioni pertinenti. Magari assumervi la leadership o esporvi in prima fila non è nelle vostre corde, ma partecipare dando generosamente il vostro contributo, sì, non indugiate oltre. Situazione finanziaria in rimonta grazie alla vostra capacità di risparmio il trigono di Marte può premiare in amore, ma se questo settore è già a posto lo farà con una piccola vincita. Un momento di fortuna e di felicità tanto più intensi quanto più si è disposti a mettersi in gioco e ad agire. Nuovi progetti, nuove amizioni, nuove opportunità. Buone occasioni per incontri nuovi e interessanti e per la nascita di coppie molto affiatate. Una vostra pena d'amore potrebbe finire da un momento all'altro, solo fate attenzione a non illudervi che questo accada stesso oggi. Poche certezze, ma chiare, oggi attraverserete alcuni momenti di confusione dovute sia a una situazione difficile per il lavoro sia a una situazione sentimentale instabile, incerta e frammentata. Mettete al riparo le vostre poche certezze. Il tempo passa velocemente per cui è bene non sprecarne troppo, anzi non sprecarne affatto. L'amore è oggi vissuto a fasi alterne. I nati di lunedì potranno fare incontri quanto mai interessanti. L'amore presuppone un atteggiamento responsabile, oggi, come non mai, occorre avere fiducia e ripagare i sacrifici degli altri con tanto affetto. Bene i nuovi fidanzamenti e i matrimoni. Qualche incertezza sul lato economico potrebbe trasformarsi in ansia, fate pace con il buon senso ed evitate qualche spesa superflua. Cambiamenti in casa o di casa. Imparerai cose importanti dagli altri. Giorno movimentato. Riceverai saggi consigli da persone anziane. Molto bene viaggi, spostamenti, contatti. Cura la corrispondenza. Sarai capace di giocare duro. Cerca di essere meno frettoloso. Il vostro partner oggi saprà farsi perdonare. Voi non sapete cosa ma lui sì. Per i single non fidativi troppo di un amico pettegolo, potrebbe mettervi in situazioni imbarazzanti. Qualche spiraglio si apre improvvisamente per una situazione che in amore vi sta adestando qualche preoccupazione. In ogni caso non fate confidenze a nessuno. È l'ottimo aspetto del pianeta della creatività, Plutone, ora in acquario, che vi porta ad interessarvi con più sollecitudine della casa e della famiglia, specie se siete nati nella prima decade. Contemporaneamente illuminare femminile, deputato appunto al nido, la luna, è ospitato oggi nell'amico toro e, pur non in diretto contatto con il vostro segno, vi coinvolge a trovare equilibrio, affettività e quella quiete cui tanto anelate, nel comfort delle pareti domestiche. Qualche attenzione dovrete porre agli eccessi gastronomici, in particolare alla preferenza, che di solito mostrate di avere, per i dolci. L'amico del giorno Marte, amico per modo di dire, perché esse può essere appassionato e far nascere una storia d'amore, altrettanto può essere litigioso, mettendovi in urto col partner o facendovi tribolare coi figli, che fanno di testa loro e non danno retta ai vostri consigli. Amore ed Eros. Le beghe di famiglia lavorano sotto la cenere, testimoniando contrasti e vecchie ruggini tra parenti, che ormai nessuno avrebbe più interesse ad esaminare e risolvere. Invece vi tocca, un episodio apparentemente estraneo alle vecchie vicende le riporta tutte in luce e quello che non è stato affrontato tempo addietro viene sviscerato oggi attraverso un'attenta riflessione. Contemperate le esigenze dell'ambiente familiare di appartenenza con quelle che vi propone la necessità di stare insieme alla vostra compagna o al vostro partner di vita. Dividersi tra due affettività così intense non è certo semplice e vi affatica non poco. In serata ritrovate comunque l'armonia, sia all'interno della casa natale dei genitori, che con la persona a cui volete un gran bene. Lavoro e denaro? Bene il lavoro, soprattutto per i creativi o chi abbia una professione volta a prendersi cura degli altri, ascoltarli, sostenerli, coccolarli. Col vostro staff andate d'accordo, tutti più o meno sulla stessa lunghezza d'onda, mossi da pari ideali, volti alla concordia, alla pace, all'armonia. A riparo i risparmi a patto che non vi lasciate stuzzicare dal demone del gioco, girate la larga dal tavolo verde, che porterebbe solo Iella. Incassate oggi l'apprezzamento dei vostri collaboratori che sanno di non poter riuscire a fare a meno di voi, della vostra competenza, della capacità di tenere testa agli imprevisti. Perché con la consueta serietà, la fermezza e il buonsenso, trovate la quadratura del cerchio in una situazione lavorativa che inizialmente appariva discretamente complessa. Benessere. Buona la forma fisica, in gara siete imbattibili, in palestra staccano visti, tutto di guadagnato per la tonicità muscolare e per il peso forma, che riuscite a mantenere senza fatica, anche indulgendo con qualche prelibatezza alimentare, particolarmente ghiotta ma calorica. Denaro. Mercurio vi rema contro dal segno dialettico dell'ariete, dunque sono per voi vietate le speculazioni e gli investimenti che non siano veramente a prova di bomba. In special modo se siete nati della prima decade. Per lei, ha un'attività consueta pensate di affiancarne una seconda alternativa, in grado di appagare creatività ed espressione personale. Più serenità, vale a dire salute. Per lui, in ansia per l'esito di un test clinico, tutta energia sprecata, il sistema immunitario tiene e con un guardiano di questo calibro potete dormire tra due guanciali. Colore delle emozioni, turchese. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 8, finanze, 8, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie per aver guardato il video.